Dall'alba alla sera, 5 giorni per fare esperienza dello straordinario nell'ordinario, con protagonisti d'eccezione, dalla letteratura alla scienza, dalla filosofia alla musica, fino alla poesia. Dal 13 al 17 marzo prende infatti il Via Milano, in luoghi diversi della città, la prima edizione di Soul Festival di spiritualità, promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Arcidiocesi di Milano con il patrocinio del Comune. Tutti gli eventi saranno gratuiti, previ a prenotazione al sito www.soulfestival.it che presenta l'intero calendario, prevedendo un programma sorprendente con 50 incontri e appuntamenti sui temi della spiritualità, così come è stato detto alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi a Palazzo Marino con la presenza dell'Arcivescovo di Milano e del Rettore dell'Università Cattolica. Eccellenza, il Festival So, Festival di spiritualità, lei dice spesso che questa città manca di spiritualità, questo è un modo, tanti eventi per affrontare la questione della spiritualità. Ma io partirei dal fatto che la Madonnina del Duomo è sul punto più alto di Milano, per secoli è stata sulla guglia più alta e questa è stata lì durante le guerre, durante le pestilenze, durante i disordini del 68, durante il terrorismo, la Madonnina è sempre stata lì. Come per dire, i milanesi hanno sempre avuto un desiderio di poter guardare in alto, tant'è che quando i palazzi costruiti di recente hanno superato l'altezza della guglia del Duomo è stata portata una coppia della Madonnina sui palazzi più alti. Ecco, questo è un segno per dire che questa città ha un desiderio di poter guardare in alto e questa è in sostanza la spiritualità. Ecco, questo cioè un desiderio di trascendenza, un desiderio di qualcosa che vada oltre le cose da vendere, da comprare, le occasioni per divertirsi o per protestare, qualcosa che dia una dimensione più promettente alla vita, alla convivenza, all'intraprendenza della gente che abita a Milano. Per questo salirà sulle guglie del Duomo una mattina alle sei, domenica mattina, a marzo, proprio nel cuore del Festival Soul, con uno sguardo su questa città come ha fatto durante il Covid? Beh, io ho il compito in questa città di intercedere. Ecco, non ho tanto da insegnare, non ho la pretesa di organizzare, ma dico questo desiderio di guardare in alto, lo voglio interpretare come fanno i cattolici, traducendolo in una preghiera di intercessione in cui tutti siano ospitati e per tutti ci sia una benedizione. Chiarissimo anche il contributo che l'Ateneo dei Cattolici Italiani offre in questo Festival. Abbiamo raccolto uno stimolo, un suggerimento che proveniva dalla diocesi e siamo molto contenti di questa iniziativa e del riscontro che sta avendo. È stata selezionata tutta una serie di relatori decisamente interessanti e affascinanti. La risposta che la città sta dando dimostra è che esiste veramente un interesse, un interesse per il pensiero, per la riflessione, per l'attenzione alla profondità dell'approccio alle vicende umane in un momento di grande disorientamento. Quindi è una forma, direi, nobile di servizio alla collettività che un Ateneo è molto lieto di fare e probabilmente riconosce questo tra i suoi compiti fondamentali. Per andare oltre tanti luoghi comuni, molte voci diverse approfondiranno temi altrettanto diversificati. Lei ha detto che è un contributo alla città per dare un'anima a questa città, un sole. Sì, forse darla a noi è un po' ambizioso. Certamente si tratta in realtà di stimolare quel desiderio di riflessione, di pensiero e quindi solleticare l'anima che la città ha già e che le persone hanno già con stimoli, che è molto importante siano di intonazione e di ispirazione differente perché quello che si vuole promuovere non è una lezione unilaterale. Senza dimenticare, come afferma l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, l'idea di un festival diffuso sul territorio. Milano ha inventato un modello, non recentemente sicuramente, ma da qualche decennio, di questa diffusione di ciò che succede attraverso un tema dato. Succede per eventi, iniziative che hanno un carattere d'origine più commerciale, come può essere la Fiera del Mobile, che poi diventa però l'occasione per parlare di spazi, di abitazione, di abitare in tutti i luoghi della città. Succede per i grandi festival di musica, di teatro, di letteratura e di libri, inutile che li citi. Adesso succede anche con questa grande occasione dove i luoghi vengono abitati per fermarsi a riflettere su cosa e come stiamo vivendo.